Ciao io sono Salvo, io sono Giorgia, oggi faremo un TikTok di magia, per fare questo gioco bisogna preparare prendere una carta e nella carta abbiamo attaccato un biadesivo, poi abbiamo bisogno di un cucchiaio due monete, ovviamente le monete devono essere o magnetiche o di metallo al cucchiaio abbiamo attaccato anche una piccola calamita in modo che le monete si possano attaccare al cucchiaio e ora seguiteci per vedere la magia Ciao